17 novembre 2017, Santa Elisabetta di Ungheria. Stiamo riparando l'edicola di Santa Lucia. Il maestro in ferro Salvatore Coppola dalla Renella, uscito dalla scuola dei fratelli maestri in ferro Filiberto e Antonio Rocco Filiberto. Il figlio Ivan sta pitturando l'edicola lavoro finito. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti i cani e sono state spostいて dire che questo è ship, bene bravo ce l'abbiamo fatta alla prima fila sono attaccato meno ma allora salvatore a vede era iniziato il cielo ma mo te l'ho detto era iniziato aveva iniziato aveva iniziato ma mo grazie a dio l'abbiamo già la saturama allora con il silicone quindi sì però è riparato diciamo si legge tutto l'abbiamo l'abbiamo è l'abbiamo è